guarda questo è un ramo del mandorlo che sta contro casa ho voluto cogliere questo si entra per ogni dove dalla siepe rovinata ma ora la rifarò solida e forte ho voluto cogliere questo pensando che se io fossi stato il prescelto non lo speravo perché sono nazareno e obbedito perché ordine di sacerdote non per desiderio di nozze pensando dicevo che tu avresti avuto gioia ad avere un fiore del tuo giardino eccotelo maria con esso ti dono il mio cuore che come esso è fiorito sino ad ora solo per il signore ed ora fiorisce per te sposa mia maria prende il ramo è commossa e guarda giuseppe con un viso sempre più sicuro e radioso si sente sicura di lui quando poi egli dice sono nazareno il suo volto si fa tutto luminoso ed ella si fa coraggio io pure sono tutta di dio giuseppe non so se il sommo sacerdote te l'ha detto mi ha detto solo che tu sei buona e pura e che hai da dirmi un tuo voto ed esser buono con te parla maria il tuo giuseppe vuole farti felice in ogni tuo desiderio non t'amo con la carne ti amo con lo spirito mio santa fanciulla che dio mi dona vedi in me un padre e un fratello oltre che uno sposo e come a padre confidati come a fratello affidati fin dall'infanzia mi sono consacrata al signore so che questo non si fa in israele ma io sentivo una voce chiedermi la mia verginità in sacrificio d'amore per l'avvento del messia da tanto l'attende israele non è troppo rinunciare per questo alla gioia d'esser madre giuseppe la guarda fissamente come volesse leggerle nel cuore e poi prende le due manine che ancora hanno fra le dita il ramoscello fiorito e dice ed io unirò il mio sacrificio al tuo e ameremo tanto con la nostra castità l'eterno che egli darà più presto alla terra il salvatore permettendoci di vedere la sua luce splendere nel mondo vieni Maria andiamo davanti alla sua casa e giuriamo di amarci come gli angeli fra loro poi io andrò a Nazareth a preparare tutto per te nella tua casa se ami andare in quella altrove se vuoi altrove nella mia casa vi era una grotta là in fondo vi è ancora? vi è ma non è più tua ma te ne farò una dove starai fresca e quieta nelle ore più calde la farò quanto possibile uguale e dimmi chi vuoi con te nessuno non ho paura la madre d'Alfeo che sempre viene a trovarmi mi farà compagnia un poco nel giorno e la notte preferisco esser sola nulla mi può accadere di male e poi ora ci sono io quando devo venire a prenderti quando tu vuoi Giuseppe allora verrò non appena la casa è ordinata non toccherò nulla voglio tu trovi come tua madre ha lasciato ma voglio sia piena di sole e ben pulita per accoglierti senza tristezza vieni Maria andiamo a dire all'Altissimo che lo benediciamo non vedo altro ma mi resta in cuore il senso di sicurezza che prova Maria grazie grazie